Bene, a me è l'arduo compito di aprire la mattinata, dopo notti brave e camminate mattutine. E ciao, sono Piero, non gestisco progetti da dieci minuti e nella vita faccio due cose, lo strategist di comunicazione e il project manager. In realtà è proprio l'ordine in cui ho iniziato a fare le cose. Grazie Jack! Ho iniziato in agenzia di comunicazione. Perché? Perché a me piace un sacco fare comunicazione. Però poi sono diventato un project manager e oggi vi racconto come ci sono arrivato e quali strumenti uso, soprattutto due, che uso per i workshop e per la gestione dei progetti e perché non faccio quasi più comunicazione. Questa è la triste realtà. Quindi, perché io sono finito a fare il project manager? Per raccontarvi questa meravigliosa storia, ho pensato di fare non solo brutta figura io, ma di coinvolgere persone qui presenti. E quindi volevo chiamare Vincenzo, vieni qui che mettiamo in scena quello che tutti noi abbiamo vissuto almeno un paio di volte. Grazie Vincenzo per esserti prestato a questa gag. Buongiorno a tutti. Faccio anche io il test rampa, solo per non farmi mancare niente. Bene, vieni rampa. Regge, regge. Bene, quindi immaginatevi un giovanissimo Piero in agenzia che va dai clienti. Buongiorno. Lei è? Direttore marketing. Si chiama? Brambilla, Fumagalli. Fumagalli Brambilla. Sospettavo. Può anche invertirli se vuole, non è che cambia. Perfetto. Sono qui per il brief. Deve pulire qualcosa? No. Mi serve il panno? C'è la struttura? La comunicazione. Ah, in che senso? Avete degli obiettivi di comunicazione? No, dobbiamo vendere cose sicuramente. Come responsabile, ma cioè io una cosa devo fare, devo vendere. Benissimo, ma un'idea? L'idea di vendere. Ok. C'è sbiglietta, non so come posso tradurre per quelli da Roma in su e quelli da Roma in giù. Ma un budget ce l'avete? Ma c'è stato un po' di soldi. Bisogna chiedere però la tesoreria, che la tesoreria chiama la presidenza. La presidenza a sua volta chiama la moglie per vedere se sul conto ci sono ancora i soldi. Ok, ma quindi cosa facciamo allora? Facce una campagna. Una volta qui era tutta campagna. E tutto questo un giorno sarà nostro. Benissimo. E questo è il dialogo tipico. Grazie mille Vincenzo. O Brambilla Fumagalli. Perché questi sono i dialoghi immediatamente che avevo. Gente che non sapeva cosa voleva fare, ma voleva comunicare. E cosa mi sono detto? Ma io così non riesco a lavorare senza un brief. Qualcuno che abbia un'idea, un budget. Cioè, dammi almeno uno dei due. Se mi dici il budget, più o meno capisco cosa si può fare. Se hai un'idea ti dico quanto costa. E allora mi sono detto, ma io così senza un brief, senza capire bene, faccio molta fatica. È un continuo fare e disfare. E allora ho detto, beh, probabilmente c'è della disorganizzazione. E allora cosa facciamo? Aiutiamo questi poveri direttori marketing, questi uffici comunicazione, a gestire un attimino meglio i progetti. Sacrifichiamo un pochino la comunicazione, ma gestiamo meglio. E quindi cosa succede? Incomincia a fare il project manager e quindi comincia a parlare con gli amministratori delegati. Gli amministratori delegati che in questo caso è rappresentato da uno straordinario Cristiano Ferrari che anche lui si presta a fare minchiate. Cioè, non è un freelance camp se Cristiano non viene chiamato a fare cose improvvisamente. Buongiorno, lei è? Cristiano Cerbelloni Mazzanti viene dal mare. Sospettavo, l'illuminato amministratore con sedia in pelle umana. Quindi, le priorità della sua azienda? Noi vogliamo raddoppiare il fatturato quest'anno. Ok, adesso vado a metterle giù un progetto. Ecco, questo sarebbe il progetto per raddoppiare il fatturato. Va bene? Sì, l'importante è che raggiungiamo i giovani. Sì, ma voi vendete ai vecchi? Non chiamavamo lei se non volevamo cambiare. Allora, adesso vado a farle un progetto sui giovani. Ecco qui, guarda, questo è il sito, l'idea del comunicazione. Abbiamo visto con l'amico direttore marketing, può andare bene. No, è interessante, può andare bene. Però il sito ormai è una cringiata. Mi hanno parlato di essere dove i giovani sono, su Snapchat, Clubhouse. Ma non sono in target. Poi avevamo detto che dobbiamo raddoppiare il fatturato. Sì, ma noi siamo un'azienda giovane, leader, dinamica. Non possiamo fare le cose che fanno tutti. E a chi vendete? Ai nostri clienti. Sospettavo anche questo. Bene. Che è il dialogo veramente che succede con gli imprenditori, piccoli, mediari, ma anche nelle multinazionali? Che ogni tre minuti cambia un'idea. Grazie Cristiano per aver comunque fatto questa meravigliosa gag. Aspettiamo il fatturato. Aspettiamo il fatturato, arriva. Questo perché? Perché mediamente, anche lì, priorità che cambiano. Aumentare il fatturato, ma domani mattina riduciamo i costi. Però è prioritario andare su Clubhouse. E tu non capisci bene perché. Perché? E quindi la cosa che ho iniziato a fare è ragionare con un po' di persone intorno allo stesso tavolo perché il direttore è un'idea, responsabile comunicazione ne è un'altra. Le risorse umane vogliono fare un'altra cosa ancora. Allora ho detto, beh, invece di continuare a fare dei giri insieme e dover rifare 87 volte le cose perché sono un project manager, il che significa che sono pigro. Non voglio rifare i progetti, voglio farli una volta sola e che vadano bene. E quindi ho iniziato a dire, beh, lavoriamo tutti insieme una volta e di solito uso una metafora che è quella del viaggio. Quindi, da cosa inizia un viaggio? Come fate? Da cos'è che parte? La meta! Esatto! Quindi uso... Sì, se devo scegliere come fare la valigia, mi serve la meta. Se vai in montagna ti vesti in un modo, al mare in un altro. Quindi l'idea è, li mettiamo tutti nella stessa stanza e incominciamo a dire, ok, c'è una meta. E la meta in un viaggio può essere rappresentata da un'isola. E io dico, bene, che isola vorrete raggiungere? Che cosa volete fare? Che poi può essere l'isola dove c'è il tesoro, l'adattate un attimino, diciamo come siete voi. Però le persone iniziano a dire, ok, questa è un'isola ed è molto interessante. E incominciano a capire qual è la destinazione da raggiungere. Non che cosa devono fare. Perché fare la campagna è un'attività. Perché fai la campagna è la destinazione. Poi, ragionato sul dove vogliono andare togliendo tutto il resto, incominciate a dirgli bene. Ma come ci arrivi su un'isola? Come ci si arriva? Grazie Jack! E quindi è bene. Noi, su quest'isola, con che progetto ci arriviamo? Di che barca abbiamo bisogno? E questa, se volete, è proprio la base. Ho una destinazione e un modo per arrivarci. E questo è il progetto. Dopodiché questa metafora si può ampliare tantissimo. Perché a seconda dell'interlocutore ci potete aggiungere quasi tutto quello che volete. Ad esempio, si può navigare da soli? Sì, oppure hai bisogno di un equipaggio. Quindi è, ma che persone hai a disposizione? Quali risorse hai? Dobbiamo aggiungerne delle altre. Ci sono dei venti che ci possono spingere più veloci? E parliamo delle opportunità, degli elementi che possono velocizzare il nostro viaggio. Oppure di tutte quelle che sono le ancore che potrebbero rallentare il nostro progetto. E quindi, usando questo gioco, le persone iniziano a ragionare sui singoli elementi. E vi dico che poi potete espanderlo finché volete, perché metafora del viaggio, cosa c'è nel mare? Ah, guarda, ci sono gli squali che tanto piacciono ai libri di strategia in Oceano Blu, i mari rossi pieni di squali. Ci mettete i competitor. Oppure ci sono gli scogli, ci sono i rischi. Potete mettere il porto come il punto di partenza per un'analisi esisa. Solo che essendo così, diciamo, visivo e facendo alzare le persone, questo funziona, nel mio punto di vista, abbastanza bene per tutto quello che è progetti di comunicazione o di sviluppo prodotto. Che però sono una parte, come vi dicevo, di quello che faccio, lo strategist di comunicazione. Perché anche qui ho incominciato ad avere alcuni problemi quando parli in azienda. E lì ho incominciato ad usare un altro strumento che... Questo è portatevelo a casa che funziona benissimo. Volete aggiungere la stella polare perché c'è il perché di Simon Sinek? Bellissimo, aggiungete la stella polare. Volete aggiungere un faro? Fantastico. La metafora del viaggio è molto, se volete, plastica e la potete organizzare come meglio credete. Da qui però manca sempre qualcosa. E da project manager ho detto, beh, vediamo se riesco a fare qualcosa di diverso e a trovare altri strumenti. E questo, secondo me, è lo strumento, adesso quello che vediamo, il più utile. Perché consente a molte persone, e anche ai freelancer, di capire se stanno andando nella direzione giusta. Perché a volte l'isola magari è perfetta, ma andrebbe inserita in un contesto più ampio. Quindi, da dov'è che, diciamo sempre, si dovrebbe partire per un'impresa per capire dove andare? Da dov'è che si parte? A carta geografica e come lo chiamano Simon Sinek? Il why, il why. Quindi dico, bene, partiamo così. All'inizio ci metti la vision, il why, il perché vuoi fare le cose. E già qui in alcune aziende è, perché io voglio essere azienda, leader di settore, giovane, intraprendente e dinamica. Quindi già qui li mettete in crisi. Da qui poi incominciate a dirgli bene. Adesso definiamo quali sono, da tre a cinque anni, alcuni obiettivi strategici. Per te. E ovviamente gli obiettivi strategici non possono andare lontani dal why, è per questo che si parte da lì. E quindi si incominciano a elencare, ragionando, alcuni obiettivi strategici. Questo è già un primo esercizio, perché cosa vuoi fare? Voglio ridurre i costi, voglio aumentare il fatturato, diminuire il turnover. Cinque. Prendine cinque per iniziare. E questa è la prima, è la parte più importante, perché è questo che se volete è un attimino la mappa, perché è dagli obiettivi strategici che voi iniziate a ragionare sul resto, sull'attività che poi, se queste sono a tre, cinque anni, poi dite bene. Adesso però, se questi sono gli obiettivi strategici, noi quest'anno cosa facciamo? e quindi sulla parte di sinistra mettete le attività dell'anno. Perché mettiamo le attività dell'anno? Molto banalmente per capire se c'è un match tra aumentare i costi e fra tre anni essere leader di settore. Perché a volte le attività che si fanno, le isole che si raggiungono, non sono proprio bene, bene organizzate. E quindi incomincio a dire, bene, guarda, allora, quest'anno abbiamo individuato questi progetti, questi stream, queste attività, e incominciate a vedere se, insomma, disegnando, colorando le caselle, insomma, state facendo tutto. E qua di cosa ci rendiamo conto? Che abbiamo un'idea di progetto che non copre nessuna delle aree strategiche. Lo facciamo? No, no che non lo facciamo. E infatti c'è questo processo che non è calato dall'alto. Cioè, quest'attività di continuo rimbalzo, che si chiama catch, catch ball o nemawashi, perché questo non è uno strumento che ho inventato io, viene da lì e poi vi racconto qualcosa su questo, per incominciare a capire se le attività che facciamo quest'anno avranno un impatto fra tre e cinque anni. Bene, scelto questa parte, si continua. Perché ovviamente, una volta che ho finito il progetto, si va di tattica. E qui incomincio a dire bene, se io a questo punto, come obiettivo dell'anno, parlare ai giovani, perché fra tre anni voglio essere l'azienda di settore leader di giovani, cosa facciamo quest'anno? TikTok. Beh, ma non so se ci sono lì sopra i tuoi utenti. E quindi fate esattamente la stessa cosa, parlando con le persone, con il responsabile marketing, incominciate a individuare delle attività, e queste devono essere secondo me cinque, qua in parte possono essere anche di più, per incominciare nuovamente a fare il match. Ma la campagna su TikTok mi aiuta a raggiungere l'obiettivo annuale che poi sarà quello che sarò fra tre e cinque anni? Anche qui è molto difficile, perché non tutti sanno cosa vogliono essere tra tre e cinque anni, o anche di più, e incominciate a fare lo stesso esercizio. Bene, ho coperto tutte e tre le aree che voglio raggiungere quest'anno? Sì o no? E quindi, una volta che ho definito le attività tattiche, che non è brutto, sono tutti strategist oggi, c'è il Facebook strategist, l'Instagram strategist, il nonno strategist, tutti, perché la tattica fa un po' povero, no? No, io sai, non faccio tattiche, no? Non è brutto, è molto bello perché ti aiuta a fare le attività, e quindi incominciate a vedere se c'è un coordinamento tra le cose. E ovviamente, cosa serve dopo? Come faccio a capire se le cose stanno andando bene? Come faccio a capire se la mia campagna sta andando bene? Cosa faccio? Misuro. E quindi, se io so che attività tattiche faccio, a questo punto posso dire, bene, andiamo a vedere come misurare queste cose, quali saranno i KPI? Ed è molto facile. Se devo aumentare le vendite, cosa misuro? Genio, come direbbe Boris. Non è difficile, è ovvio che se improvvisamente incominci a dire, questo, perché, eh non lo so, ma aspetta, abbiamo segnato su Analytics come tracciare queste cose, ex post è un casino, perché magari ti sei perso i pezzi, mi è già capitato, le visite, ma non abbiamo messo Analytics sul sito, impossibile. E invece, quindi l'idea a questo punto è andare a definire quali sono le metriche per misurare il successo. E qui manca solo un'altra parte. Tutto molto bello, ma chi fa le cose? E quindi normalmente, in questo strumento, si va ad aggiungere un'altra parte che sono ok. Abbiamo identificato gli obiettivi strategici a 35 anni, quelle di quest'anno, le attività tattiche, le metriche, ci mancano le persone. Perché di solito, mi è successo recentemente, è stato un, ok, chi è che deve fare queste cose? Questo è Piero, questo deve farlo Piero, questo deve farlo Piero, questo deve farlo Piero. Bello! Io sono uno, non trino, una volta ero uno in treno perché facevo il pendolare, però, cioè, non posso essere solo io a fare tutto. E quindi è uno strumento che vi aiuta anche a capire se avete coordinato tutte le aree aziendali, avete bisogno di collaboratori esterni, se fate tutto voi, e anche qui non è una volta che dice, ah, deve fare tutto Piero, peccato. No, è un processo continuo. Vi dicevo, il catch ball, il fatto di lanciarsi la palla avanti e indietro. Se vedo che qua non funziona qualcosa, torno indietro. Non funziona qualcosa, torno indietro. È una parte di progettazione. E quindi io mi trovo alla fine dell'uso di questo strumento che si chiama Hoshin Carry, che è uno strumento dell'IN, che è una gestione ragionata dell'azienda, gestione della direzione dell'azienda, che è uno strumento visivo, perché io vedo se le persone per fare le attività strategiche ci sono, se le tattiche e le metriche che ho scelto sono collegate con gli obiettivi dell'anno e a tre, cinque anni. Quindi riesco a capire se le cose che ho fatto hanno un senso e un coordinamento. Perché di solito la cosa che succede è che io ho fatto il classico, quindi di vettori e di fisica ne so poco, ma una delle cose che ho ricordato è che se due vettori vanno da due parti opposte, la somma è molto piccola. E di solito c'è un dipartimento che va da una parte, uno che va dall'altra e a fine anno hai corso un sacco e non hai combinato molto. L'idea quindi è per allineare le attività e i progetti strategici e anche me come freelance. Ok, voglio fare personal branding, aumentare le vendite, sì ho capito, sei uno. Questa cosa magari la spostiamo all'esterno, troviamo qualcuno con cui farla, la facciamo l'anno prossimo. Serve anche ad avere meno ansia perché ti rendi conto, dal mio punto di vista, che non puoi fare sempre tutto, ma magari fra tre anni per essere qui inizia a fare un piccolo pezzo, un piccolo cambiamento. Perché è da qui che secondo me inizia a fare le cose più interessanti. Poi, è finita qui? No, perché non è che l'ho fatto una volta. Ci sono cani e gatti. C'è una persona con il cognome gatti. Perché se no non cogliete l'inner joke. L'idea quindi però, cos'è che succede? Che una volta che l'ho fatto, questa cosa ve la appendete nella vostra cameretta, perché siamo in smart, agile, remote, la qualunque working, o in ufficio. Perché io ogni tanto vado a controllare se sto andando nella direzione giusta. Non è che l'ho fatto a inizio anno, poi liberi tutti. Perché qua sotto è ancora vuoto. E quindi è bene, abbiamo fatto queste cose. Rispetto agli obiettivi strategici, stiamo andando nella direzione giusta. E vedete che torna la metafora del viaggio. Sto andando di lì. E se non ci sono arrivato? Crocifissi in sala mensa? No! Questa cosa serve a darci una direzione e capire perché le cose non sono andate lì. Non è il famigerato è colpa tua, sei tu il colpevole. Ho avuto queste idee e poi c'è stata la pandemia? Facebook ha ricambiato qualcosa? C'è il privacy geddon? Il mail geddon? L'armageddon? Bene! Ci sono arrivato, qualcosa spero di averlo portato a casa e continuo a ragionare. Sono ancora questi, e tra i cinque, ecco questi non potete cambiarli, se no abbiamo un grosso problema insieme alla vision. Ragiono di nuovo. E se ci pensate, alla fine è sempre quello che si chiama il ciclo di Deming. Pianifica, fai, controlla, reagisci. Fai, p, d, c, a. Pianifica, fai, controlla, agisci. è molto banale, infatti io volevo cambiare la mia job description su LinkedIn che è autore di domande banale. Cioè cosa fai nella vita? Chiedo perché. Facciamo questo. Andiamo in ufficio. Perché? Lavoriamo da casa. Ma perché? Facciamo questo. Boh! Tu inizia da qui. Da un'idea. Falla. la controlli, ci pensi, reagisci e ricominci. Non è che il piano si fa una volta, così come le stime. Stimare è un verbo, non è una parola. È dinamica come cosa. E quindi noi dobbiamo continuare anche in questo circolo. Ovvio che se non ho definito gli obiettivi, non so dove voglio essere fra 3-5 anni, non ho preso le metriche, questa roba qui cade. Quindi l'idea è continuare a fare questa cosa e poi di solito l'obiezione è ma io l'isola non so disegnarla. Neanch'io. Cioè non è che adesso... Però un piccolo regalo è che cos'è questo? Scarabocchio. Che cos'è? Un pulcino. Vedete, il vostro cervello è molto più abile della mia mano a riconoscere le cose. Quindi non è vero che non sappiamo disegnare, non dobbiamo esporre le nostre opere. Quindi l'isola ha due righette, serve più che altro a mettersi d'accordo su qualcosa. Serve a guardare le cose, perché di che colore lo facciamo il sito? Giallo. No, ma non quel giallo. E quando lo scoprite, quando lo avete fatto. Quando fate un'attività strategica, sulla carta, quando ne parlate, sono tutte uguali. Quando incominciate a discuterne su un foglio di carta, e per questo che è uno strumento visuale, quella è la parte più importante. E quindi il mio consiglio è incominciate proprio a dire ma io a 3-5 anni cosa voglio fare? E questa è la domanda più difficile. Insieme al why. Quest'anno per raggiungere quelle cose, cosa faccio? E potete usare a quel punto l'isola. Bene, tatticamente cosa faccio? Ho bisogno di collaboratori esterni, come misuro il successo? Fra un anno cosa è successo? Perché questo deve diventare uno strumento vivo, che ognuno di voi può decidere di usare, e potete gestire come meglio credete. Fine. Facile. Grazie. 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 Grazie.